Ci sono per ora soltanto promesse a tenere accesa la speranza dei circa 70 dipendenti dell'ex centro di ricerca Intex dell'Aquila di tornare a lavorare. I ricercatori, tutti altamente specializzati nel campo delle telecomunicazioni, sono stati licenziati da oltre un anno, perché l'azienda ha deciso di non investire più nel capoluogo abruzzese, nonostante i progetti avviati negli ultimi anni nel campo delle tecnologie spaziali del 5G. Come ultimo lascito, prima del voto regionale, l'ex assessore alle attività produttive Giovanni Lolli aveva firmato un atto di giunta con il quale si è cercato di strappare alle imprese vincitrici del bando sulla spesa economi un impegno, più politico che formale, ad assumere i ricercatori aquilani quando il bando sarà finalmente assegnato e operativo. Ma si tratta di un passaggio non vincolante da un punto di vista amministrativo. Insomma, le imprese della spesa economi potrebbero anche decidere di non tenerne conto e ora che la regione ha una composizione e un colore politico diversi, il timore dei lavoratori è anche che tutto il processo avviato dall'aggiunta ad Alfonso Salti, spegnendo così la speranza di tornare a lavorare. Chiediamo al nuovo assessore, al presidente, di attivarsi immediatamente riprendendo il discorso da dove è stato lasciato dall'aggiunta precedente. Ci sono dei finanziamenti, ci sono aziende che prenderanno quei finanziamenti perché ormai sono in atto e in particolare parliamo di tutti quelli legati alla spesa economy e che il finanziamento dovrebbe essere assegnato in breve termine e c'è un unico partecipante che sono le aziende legate a Finmeccanica, quindi per il nostro territorio, Thales, Alenia Space, Leonardo, Telespazio. C'è un vincolo in questo bando che loro devono dare lavoro ad aziende abruzzesi. Stiamo cercando di legare i due discorsi affinché queste aziende diano lavoro a chi ci riassume. E ora c'è l'appello dei lavoratori licenziati dall'ex laboratorio di ricerca per avere una nuova roulotte per poter continuare il presidio davanti a Palazzo Silone. Un camper è un punto di riferimento di aggregazione delle persone e ancora un ritrovarsi in un punto comune per tutti quanti perché la disgregazione è uno dei pericoli più importanti che c'è perché nel momento in cui si disgrega il discorso ovviamente si perdono tutte quelle energie comuni che possono essere tenute e devono essere messe in campo per cercare di risolvere questa vertenza che va avanti da troppo tempo.